Salve a tutti amici di Espazio, oggi vi faccio vedere un prodottino molto interessante e soprattutto fatto molto bene. Si tratta del Cuxio X40 ed è un dispositivo 3 in 1 che ci permette di caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e Airpods. Oltre a questo però il dispositivo ha un design di tutto rispetto, con una qualità sia dei materiali che delle rifiniture che mi hanno lasciato molto più che soddisfatto. Prima di iniziare però come al solito una cosa importantissima che a voi non costa nulla ma che per noi significa tutto. Lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, ricordando di attivare le notifiche facendo un clic sull'icona della campanellina. Iniziamo subito con un rapido unboxing che vi proporrò cercando di non annoiarvi troppo anche per le altre due colorazioni. In confezione troviamo subito una pratica custodia da viaggio con finitura in stile fibra di carbonio. Nella custodia, oltre al prodotto in sé, troviamo anche un cavetto USB-C da entrambi i lati e un alimentatore da 25W sempre USB-C. Infine naturalmente abbiamo il nostro Cuxiu X40 che qui vediamo nella prima colorazione argentata. La fattura e la rifinitura dei materiali è veramente ben fatta e dà proprio l'impressione di un prodotto premium. Il corpo come vediamo è realizzato tutto in alluminio e i vari pad sono rivestiti con un pannello gommato con finitura soft touch veramente di qualità. Adesso ne apriamo un altro. Sempre all'interno della custodia da viaggio e corredata di cavetto e alimentatore USB-C troviamo adesso la colorazione nera molto classica ed elegante. Anche qui il prodotto resta impeccabile e molto gradevole al tatto sia per quanto riguarda la scocca che i pad in gomma. L'ultima colorazione invece è quella grigia molto particolare che a differenza delle altre due ha il supporto di ricarica per l'Apple Watch in tinta unita anziché bianco come abbiamo visto appunto sulle altre due colorazioni. Come avrete certamente intuito non è un semplice pad di ricarica wireless ma una volta aperto attraverso le due cerniere molto robuste diventa uno stand a tutti gli effetti che mantiene in modo decisamente stabile la posizione sopportando alla perfezione il peso dei dispositivi senza il minimo cedimento. Come detto all'inizio del video e come anche facilmente intuibile qui sopra possiamo caricare contemporaneamente tre dispositivi. Innanzitutto le nostre AirPods di cui andiamo a posare la custodia di ricarica sul pad inferiore che esce a 5 Watt. Il nostro iPhone invece può essere agganciato morbidamente e saldamente attraverso il sistema MagSafe sul pad superiore che esce a 15 Watt ma che con gli iPhone viene limitato da Apple a 7,5 Watt. Il dispositivo tuttavia sarà riconosciuto come originale o certificato cosa evidente anche dall'animazione tipica che contraddistingue proprio questa caratteristica. Infine sul retro attraverso questo supporto che all'occorrenza possiamo anche richiudere andiamo ad adagiare anche il nostro Apple Watch per ricaricarlo attraverso il classico pad di ricarica magnetico che esce a 5 Watt. Il bello di questo caricabatterie sono proprio gli snodi che ci permettono di inclinare tutto secondo le nostre esigenze. La cosa diventa particolarmente comoda quando andiamo ad agganciare l'iPhone in orizzontale in modo da attivare la modalità stand-by. Con l'iPhone comunque possiamo stare molto tranquilli perché i pad sono molto lisci e soprattutto morbidi quindi non c'è il rischio che la scocca dell'iPhone possa rigarsi soprattutto nella rotazione da orizzontale a verticale e viceversa. In generale comunque la cura dei dettagli rende perfetto il connubio con l'iPhone e con tutti i prodotti Apple rendendo il prodotto perfetto per la nostra scrivania. Ovviamente nulla ci vieta di usare anche solo uno dei pad di ricarica. Una volta chiuso in questo modo possiamo comunque collegare il cavo USB-C sul retro e poggiare su il telefono, le AirPods o qualsiasi altro dispositivo che supporta la ricarica wireless. In ogni caso richiudendolo completamente il prodotto diventa super compatto e di conseguenza anche super trasportabile perfetto da portare in viaggio. Sul nostro blog abbiamo pubblicato anche una recensione testuale in cui trovate un link che vi permette di acquistarlo ad un prezzo già scontato per il Black Friday e a cui potete aggiungere anche il nostro coupon esclusivo che vi regala un ulteriore 10% arrivando a circa 51€. Trovate il link e coupon nell'articolo di cui vi lascio il link in descrizione o che potete trovare su Google cercando X40 ai spazio. Comunque a noi è piaciuto davvero tantissimo, cioè potrebbe essere il regalo di Natale perfetto da fare ad un amico, ad un parente ma anche a noi stessi, perché no? Voi cosa ne dite? Fatemelo sapere nei commenti, poi lasciate un like a questo video. E ricordo ancora una volta, oltre a seguirci su tutti i social, in particolar modo su TikTok dove pubblichiamo trucchetti e tutorial adatti non solo ai principianti ma anche ai utenti più esperti, di iscrivervi a questo canale se non l'avete già fatto, perché per noi significa veramente tanto, tanto forse tutto, anzi sicuramente tutto. Ma la cosa ancora più importante, quando vi iscrivete, fate anche un clic sull'icona della campanellina per ricevere le notifiche in modo da sapere quando pubblichiamo i nostri nuovi video. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sui spazio.